Ciao ragazzi, allora molti di voi di fronte alle immagini delle proteste in Francia, che sono veramente delle immagini impressionanti perché si parla di più di un milione di persone che sono scese in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni di fronte a queste immagini, dicevo, molti di voi reagiscono dicendo ah ecco, in Francia scendono in piazza, in Italia invece no siamo dei pecoroni, siamo persone senza palle qui non si muove una foglia e dall'altra parte ci insegnano come si fa dall'altra parte sono un popolo fiero, noi non valiamo niente, eccetera, eccetera, eccetera ora, io cercherò di dirvi quello che secondo me è il motivo per cui in Italia non vediamo ancora una manifestazione del genere cioè un movimento popolare del genere che scende in piazza per protestare contro ad esempio il taglio della spesa pubblica contro l'aumento dell'età pensionabile, contro tante di quelle politiche economiche che hanno veramente massacrato parecchi italiani, parecchie famiglie, parecchie aziende vedete, io credo che alla base, il pensiero che sta alla base di chi si lamenta giustamente, giustamente, nel fatto che in Italia non ci sia una sommossa popolare mentre invece in Francia sì, lo so che vi potrà sembrare strano ma alla base c'è lo stesso pensiero che anima invece un eurenomane, un fanatico di Bruxelles che dice noi siamo un popolo di scansafatiche, di incapaci, di ignoranti, di ladri e quindi è giusto che ci sia il vincolo esterno, cioè che ci sia qualcuno che ci dice cosa fare che ci imponga le sue regole e le sue leggi perché da soli invece non andremo da nessuna parte lo so che vi può sembrare strano ma alla base c'è lo stesso pensiero c'è lo stesso identico pensiero e peraltro se da una parte, come dire, nell'esternazione dell'europeista si finisce per giustificare appunto il vincolo esterno quindi qualcuno che ci impone il suo volere perché altrimenti noi da soli finiremmo per autodistruggersi e sappiamo che è una boiata dall'altra invece lamentarsi del fatto che non ci sia la sommossa popolare in Italia e, come dire, lanciare parolacce contro il popolo italiano definendolo incapace, senza palle, senza coraggio, senza spina d'ossale lì si va alla fine a giustificare l'inerzia perché fondamentalmente nei momenti in cui io mi lamento del fatto che nessuno stia scendendo in piazza sotto casa mia e che quindi non ci sia il milione di italiani come invece c'è il milione di francesi a buttare all'aria tutto in quel momento sto dicendo, beh, sotto sotto allora non cambia niente se io scendo in piazza oppure no non cambia niente se io mi metto in prima persona, se mi spendo in prima persona oppure no perché tanto non mi seguirebbe nessuno e infatti spesso e volentieri le persone che parlano in questa maniera non stanno facendo niente per carità non voglio generalizzare, so che molti invece magari si spendono nel loro piccolo magari fanno informazione oppure danno vita ad eventi oppure come si fanno in quattro per mettere insieme più energie che è quello che va fatto sempre e comunque ma la maggior parte sono persone che non stanno realmente facendo qualcosa ma si stanno lamentando che nessuno lo fa che nessuno dà il là a un qualcosa a cui loro sicuramente aderirebbero ma cosa impedisce a queste persone di essere loro stesse a dare il là ad un movimento popolare in Italia? per cui alla fine tra ipocrisia, pigrizia mentale e quant'altro non si va da nessuna parte e peraltro non si tiene in considerazione il contesto generale che è diverso tra Francia e Italia innanzitutto parliamo dell'aspetto proprio storico storicamente il popolo francese gli viene riconosciuto da tutti è un popolo che tende alla rivoluzione a questo spirito rivoluzionario dalla rivoluzione francese alla comune di Parigi cioè scendere in piazza a fare barricate contro il potere costituito e buttarlo giù è un qualcosa che ai francesi storicamente viene molto più facile ma questo è un primato che i francesi hanno nei confronti non solo degli italiani ma di tantissimi altri popoli certo noi di rivoluzioni effettivamente ne abbiamo fatte poche ma quelle poche che abbiamo fatto spesso vengono o ignorate o peggio ancora infangate io ad esempio sono un grande estimatore della Repubblica Romana del 1849 la Repubblica che resistette ai francesi di Udino che peraltro tradì il patto di non aggressione dopo essere stato preso a calci dopo il primo assalto alla città e poi come dire attaccò le mura di Roma con una potenza di fuoco soverchiante e ci furono centinaia migliaia di romani che diedero la loro vita per difendere la Repubblica Romana ma anche qui so che molti direbbero eh ma Mazzini, Massone, Garibaldi, Lardo di Cavalli e partirebbe tutta quella retorica antirisorgimentale che io sinceramente non sopporto perché parte magari da dei fatti reali ma non li riguarda da un punto di vista come dire a 360 gradi cioè tiene come dire tiene volutamente lontani mentre invece dei dei tiene volutamente lontani dei dei argomenti, dei fatti storici che invece parlano realmente di grandi sacrifici parlano realmente di grandi di grandi atti eroici che hanno coinvolto non solo i grandi personaggi della storia ma anche le persone comuni quindi ripeto anche qui siamo di fronte magari a un evento storico che con tutte le sue ombre con tutte le sue contraddizioni ha comunque visto italiani battersi per una causa a mio avviso sacrosanta cioè quella di una repubblica democratica che peraltro in quei mesi perché durò sei mesi tirò fuori quella che fu in quel momento la costituzione più avanzata del mondo ok? è qualcosa di cui dovremmo andare fieri mentre invece pure qui si finisce a dire no perché sono contro l'unità d'Italia Mazzini lavorava per gli inglesi eccetera 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 e si tiene lontano si taglia via invece l'aspetto eroico e rivoluzionario che ci fu anche in quegli anni e in quei mesi e in quei giorni che furono molto insanguinati quindi anche qui è vero i francesi sono sicuramente più rivoluzionari degli italiani ma gli italiani hanno una veramente una predisposizione a tagliarsi le gambe da soli a fustigarsi da soli anche di fronte magari a grandi meriti e a grandi successi pensiamo ad esempio alla retorica sulla prima guerra mondiale no? cioè è una guerra in cui gli italiani pensano più a Caporetto rispetto al Piave o a Vittorio Veneto o alla battaglia di El Abba in Sizza cioè tutte cose di cui gli italiani conoscono poco e niente ma se gli dici prima guerra mondiale è subito Caporetto cioè una sconfitta che anche lì fu ingigantita fu una terribile sconfitta ma come ce ne furono tante altre sui vari fronti della prima guerra mondiale vi invito ad ascoltare lo storico Marco Cimino che spiega appunto che Caporetto fu uno dei tanti momenti in cui crollò una linea di difesa e poi ci si attestò su una linea più arretrata è successo in Francia, è successo in Russia è successo ovunque solo da noi ci siamo riusciti a creare sopra una retorica mentre invece altri popoli si sono giustamente andati a focalizzare sulle vittorie senza finire nello sciovinismo o nel nazionalismo estremo si tratta semplicemente di dare a Cesare quel che è il di Cesare ma noi non diamo all'Italia quel che è dell'Italia quindi anche qui da una parte sono più rivoluzionari dall'altra noi ci frustiamo da soli poi oltre Alpe hanno delle sigle sindacali che sanno portare in piazza centinaia di migliaia di persone e veramente sono una spina nel fianco dei governi noi invece abbiamo delle sigle sindacali che fanno ridere la CIS, la WILL, la CGL cioè una più ridicola dell'altra sono tutti i sindacati che hanno perso negli anni milioni e milioni di iscritti perché si sono ritrovati ad essere totalmente dei leccapiedi del potere non li sentiremo mai battersi contro il taglio della spesa pubblica battersi contro l'austerity battersi contro il pareggio in bilancio battersi contro tutto quello che ha distrutto il nostro tessuto industriale no, li vediamo al massimo fare delle conferenze sul razzismo ecco, questo è questi sono i nostri sindacati poi magari fanno qualche sciopero che dura qualche ora ancora più ridicolo ecco, c'è anche questa differenza qui una differenza di organizzazione in Francia sanno come muoversi all'unisono per mettere tutto il paese in blackout da noi c'è un problema che ricorda un po' la Grecia delle polis greche anche questo l'avevo detto insomma, in cui ognuno pensa al suo orticello anche addirittura nel campo sovranista le varie forze quelli che hanno lo zero virgola qualcosa quelli che invece vanno per la maggiore che non si riesce a comunicare a vicenda non ci si riesce a venire incontro non si riesce a trovare un terreno comune e ci sono tanti terreni comuni con tutte le differenze del caso ma ci sono delle battaglie singole che si possono portare avanti ci sono dei dialoghi che possono essere che si può dare vita tra elettori diversi ma che hanno intuito che il sistema va cambiato insomma, tante di quelle cose che non succedono perché? per, come dire, per questa indole un po' da campanilistica che purtroppo c'è in Italia ma è superabile anche qui, è superabile mettersi qui invece a dire no, non valiamo niente in Francia fanno rivoluzioni e qui no, non serve assolutamente a niente quindi quello che vi dico è va benissimo criticare l'inerzia il fatto che molti se ne stiano a casa invece di scendere in piazza è anche vero che milioni di italiani hanno ancora la speranza che questo governo caschi che i partiti delle opposizioni salgano al potere e cambino qualcosa è una speranza giusta? è una speranza vana? questo è un discorso a parte che ho fatto tante altre volte quello che è certo è che non c'è ancora quella disperazione quella rabbia che porterebbe effettivamente ad una rivolta popolare e anche qui alcuni di voi direbbero sì però la rabbia c'è, la disperazione c'è sicuramente a quanto pare non siamo arrivati ancora al punto di rottura perché anche qui storicamente gli italiani hanno molta più pazienza perché la loro storia parla di, la nostra storia parla di una penisola che è stata invasa centinaia e centinaia di volte e questo ovviamente ha portato gli italiani anche a avere insomma una linea di dolore molto alta quindi insomma anche questo ci sono un sacco di ragioni storiche, culturali, sociali che non giustificano l'inerzia non giustificano il fatto che non ci sia una sommossa popolare ma la inquadrano gli danno un senso è un senso che dobbiamo accettare? assolutamente no a mettersi qui, a piangersi addosso non serve assolutamente niente e vi dirò di più nel momento in cui smetteremo di farlo lì troveremo realmente l'energia per dar vita a qualcosa degno di quello che è successo e che sta succedendo in Francia e magari ci scopriremo molto più rivoluzionari di quanto pensassimo grazie a tutti